VOTA MEMO 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 INTERNAUTI! Elettori, chattatori, whatsappari, facebookiani quando sarete chiamati a esprimere in rete la vostra preferenza ricordatevi un solo nome MISFORMEMO INTERNAUTA VOTA MISFORMEMO INTERNAUTA UN CORTO DA PAURA Sì per quanto è brutto farà brutto mascalzone figlio di INTERNAUTI INTERNAUTI VOTA MEMO VOTA MEMO VOTA MEMO Elettori, chattatori, whatsappiani quando esprimerete in rete la vostra preferenza votate il corto MISFORMEMO il corto che non si può scordare votare è semplice basta cliccare su mi piace mi piace e vota da solo maledetti cinefidi se la prendono sempre quei più corti E così non si può scordare in rete la vostra preferenza quindi